Giro vorticoso di comunicati, istanze, ma tutto sembra non vedere la luce. Prima la nota della discarica di Conversano del 5 gennaio che sottolineava che dal 9 non si sarebbero più potuti conferire rifiuti. Poi il comunicato dei sindaci dell'area metropolitana di Bari che hanno scoperto in corso d'opera la delicatissima situazione che stava coinvolgendo le loro realtà. Infine la regione che non avendo lavorato nella prima settimana dell'anno con uffici praticamente deserti come abbiamo avuto modo di verificare ora sta provando a correre i ripari. La gente tra sanità e rifiuti con costi incredibilmente aumentati e tracisevare non sa più in realtà chi sta dicendo la verità e a quale politico affidarsi. Si rischia una catastrofe sanitaria eppure dalle varie stanze degli assessorati non giungono voci confortanti. L'appello non può che essere al capo del governo pugliese. Il 2024 è ancora lontano. I comuni oggi sono pieni di rifiuti e le famiglie non sanno più come fare a tenere in casa l'immondizia. Ma è mai possibile che quando ci si trova davanti a problemi così seri che interessano tutta la comunità pugliese proprio la regione non risponde presente? Certo direte voi molte responsabilità sono in carico all'agenzia regionale che si occupa dei rifiuti che avrebbe dovuto prendere urgenti provvedimenti ma evidentemente non basta. Le costose agenzie regionali visti di scarsi risultati ottenuti quando scatta un'emergenza così delicata porta a fare considerazioni sulla loro utilità. Ed è sempre più critica la situazione legata ai rifiuti nei comuni dell'area metropolitana di Bari la discarica di Conversano come dicevamo a seri problemi di conferimento. I sindaci attraverso un comunicato confermono che a causa dei problemi agli impianti di conferimento rifiuti non imputabili alla nostra responsabilità in queste ore la raccolta porta a porta sta subendo disagi. Alla luce di quanto sopra rappresentato si evidenzia che il permanere di tale situazione determinerà inevitabilmente delle criticità per la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti. Rivolgiamo quindi a tutti, concludono i sindaci dell'area metropolitana di Bari, un accorato invito alla collaborazione evitando, ove possibile e non strettamente necessario, di conferire giornalmente rifiuti all'esterno delle proprie abitazioni.